Clima surriscaldato e nervi tesi tra i 240 lavoratori della GAM ridotti alla fame e al momento senza alcuna prospettiva di ripresa produttiva per il macello. Nelle prossime ore il curatore fallimentare del Tribunale di Campobasso metterà all'asta il famigerato secondo lotto, ma è prevedibile che, dopo la dipartita di Agricola Vicentina del gruppo Amadori, non ci saranno imprese né locali né di fuori regione che risponderanno al bando pubblico. A complicare la vita agli ex lavoratori della filiera vicola molisana, la mancata erogazione dell'indenità di cassa integrazione dallo scorso 4 maggio ad oggi, benché riconosciuta dal Ministero fino al prossimo 4 novembre. In sostanza, gli operai non percepiscono un solo euro da metà maggio quando incassarono pochi spiccioli riferiti ai primi tre giorni dello stesso mese. Da quando è dato sapere, si sarebbero verificati problemi tecnici che non hanno consentito all'Invese di effettuare i conteggi relativi alle spettanze maturate. Naturalmente, la rabbia dei lavoratori è esplosa e con essa la disperazione di chi non è più in grado di dare da mangiare ai propri familiari almeno una volta al giorno. Alcuni di essi hanno deciso di non iscrivere i propri figli a scuola o all'università, non potendo fronteggiare i costi relativi. Una condizione drammatica da terzo mondo che mette a rischio anche la sicurezza e l'ordine pubblico, tanto che alcuni lavoratori hanno avvisato i dirigenti della Digos e si accingono a inviare una nota al prefetto di Campobasso. Intanto il Presidente della Regione, Donato Toma, ha convocato un vertice nella sede della Giunta per sabato mattina, ma non è dato sapere quali novità potrà mettere sul tavolo. Alla riunione parteciperanno i vertici dei sindacati locali e nazionali, con l'invito del Governatore a non superare il numero di due rappresentanti per ogni associazione. Sarà dura rispettare tale richiesta, considerato lo stato d'animo e la disperazione di coloro che da sei anni lottano in vano per la continuità lavorativa dentro o fuori della gamma. Peraltro, costoro, sono consapevoli che, pur sbloccando gli ultimi sei mesi di cassa integrazione, dal prossimo 4 novembre resteranno senza ammortizzatori sociali e in assenza di soluzioni, senza alcuna continuità lavorativa. C'è da scommettere che sabato mattina saranno tutti presenti sotto la sede della Giunta regionale per presidiare il vertice convocato dal Presidente e che a seguire proclameranno una serie di manifestazioni a quanto burrascose.